Isola dei famosi, Cecilia Capriotti si svela. Le telefonate della moglie di Amauris Perez Cecilia Capriotti è tornata a parlare del presunto flir tra i due naufagi impegnati in Italia La showgiri si è tirata fuori da questo gossip sin dal primo momento. In ogni caso, c'è ancora chi crede che sia proprio lei la donna che si è lasciata andare alla passione Ospite di Barbara Dunso a pomeriggio 5, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha ribadito la sua posizione nei confronti di questi ultimi gossip Il nome dell'uomo, che è venuto fuori da tali rumors è quello di Amauris Perez. La Capriotti ha però dichiarato di essere legata dal pallanuotista da una semplice e sincera amicizia Nello studio di Canale 5, la donna ha anche rivelato un nuovo e inaspettato particolare Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi. Le parole su Angela, la moglie di Amauris Perez Cecilia e Amauris non hanno fatto nulla e la Capriotti lo dichiara a gran voce. La showgiri ha dichiarato di essersi trovata in una situazione molto spiacevole, soprattutto nei confronti di Angela Rende Riguardo a tutta questa vicenda, l'ex naufraga dell'Isola ha cercato di fare il punto della situazione una volta per tutte Io ho sorriso perché non gli ho dato peso. Io sono per la verità. Parlando di ciò che è accaduto a Domenica Live con Craig, la donna dichiara. Non si fa in quanto non è vero Non è mai successo nulla. L'assurdità è che Craig è un buffone, sia per quanto riguarda la mia storia che la storia di Franco In tutti e due i casi si è vendicato insinuando cose molto gravi. Angela mi chiama piangendo Chiuse virgolette. A quanto pare, la moglie del bel cubano sta molto male per le voci, che stanno circolando sul punto di suo marito Isola dei famosi, Cecilia Capriotti. Niente passione con Amauris.Insomma, la Capriotti resta ferma sulle sue primissime dichiarazioni La donna non ha nulla da nascondere e continua a ripetere di non aver fatto assolutamente nulla con Amauris